La procura di Siena ha notificato oggi l'avviso di conclusione indagine ai due giovani schermidori accusati del presunto stupro di un atleta 17enne avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto scorsi durante un ritiro sportivo a Chianciano Terme. Violenza sessuale di gruppo, l'ipotesi di reato contestata. Ad aprile scorso l'atleta, una schermitrice straniera, è stata ascoltata dal GIP di Siena per quasi 8 ore con incidente probatorio richiesto dalla procura che coordina le indagini condotte dai carabinieri. Adesso scattano i canonici 20 giorni per le difese per presentare memorie o richiedere interrogatori, dopodiché sarà fissata l'udienza preliminare.